Si è parlato di sostenibilità nella difesa dell'olivo, con particolare riferimento al principale fitofugo che è la mosca. Sostenibilità significa una sostenibilità economica da parte dell'agricoltore, quindi una lotta che deve essere efficace, efficiente e a basso costo, ma anche abbiamo preso in considerazione la sostenibilità ambientale e quindi gli impatti che possono esserci in un ambiente così fortemente antropizzato come la valle di Mezzane e una sostenibilità anche dal punto di vista delle produzioni, perché olio d'oliva di qualità significa un prodotto senza residui di fitofarmaci.